Lei è finlandese, è una regista e mi sembrerebbe di più un'attrice. Si chiama Zahida Bergloft, ma per favore pronuncia in finna perché non lo so, è totalmente diverso. Si suono molto bene, ma in finna diciamo Zahida Bergloft. Ecco, è completamente diverso. Lei è la regista di un film molto bello che si chiama Miami. Potete parlare del tuo Miami, che è davvero un film molto bello? Mi sono molto bello. Grazie, è una storia sulle sorelle che si incontrano solo dopo la vita, hanno cresciuto in diverse famiglie e poi si cercano per l'altro quando si è crescita. La sorella è una danza exotica che è in molti problemi, e la piccola zahida trova il meglio di aiutare. Ma il vero del film è in un vero complesso relazione tra queste due ragioni. Grazie mille, e faccio il nuovo! Leattrici di Miami, che sono molto carine e molto simpatiche, con dei nomi che difficilmente si possono pronunciare. Cosa è il tuo nome? Mi nomi è Krista Kosanen. E tu? Mi nomi è Sonia Kuittinen. Ok, ma come Miami? Miami è Angela. È un luogo che è come un sogno per lei, dove lei vuole andare, dove tutto sarà meglio, dove lei non ha dovuto affrontare il mondo, le responsabilità, le potele, le problemi. In Miami, lei si può essere ammata, e lei si può essere felice. È come, tutti abbiamo un luogo dove pensi, se non mi arrivo solo, io sarei felice, invece di affrontare il mondo. E tu? Oh, sì, per Anna, la mia caratteria. Angela è l'unica che ha, la sua padre ha morto, la sua madre ha morto, la sua madre ha morto, e quando si mette Angela, si mette un grande sogno, e questo sogno di Miami, e un posto dove puoi riusciare, sentire la sua fiducia, essere felice e essere quello che vuoi. Ma anche, Anna è un po' preoccupata, cosa questa Miami può portare? Sì, è un po' preoccupato. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.